Non lo hai mai avuto grande, ma la dolce attesa le regala una piacevole sorpresa. Giulia Salemi è incredula davanti ai suoi seni lievitati grazie alla gravidanza. In vacanza in una masseria in Puglia, l'influencer e conduttrice nota il suo décolleté, aumentato, vertiginosamente in pochi giorni, ne è fierissima. Sono scioccata, dove si mette la firma? Sottolinea. Indossa un costume con il top a fascia, con bretelline sottili. Il bikini le sottolinea ancora di più le nuove forme procaci. Ragazzi, ma io sono scioccata, esclama. Giulia poi si tocca con un dito le due mammelle e aggiunge, ma chi sono queste? Ma chi le conosce? Ma dove si mette la firma? Caspita! Mostra la sua meraviglia con l'espressione del volto. Non riesce a credere ai suoi occhi. La Salemi è davvero contenta di aspettare il suo primo bebè dal compagno Piepaolo Pretelli, 34 anni il prossimo 31 luglio. Già molto affezionata al figlio di lui, Leonardo, avuto nel 2017 dall'ex compagna Ariadna Romero, ora allargerà la famiglia. E chissà che poi non arrivino le nozze. L'italo-persiana si gode ogni istante della gestazione. Ha superato il primo trimestre e il pancino cresce. Le fan più attente si erano accorte della possibile cicogna in volo proprio osservandole il seno. Giulia ha provato a confondere le idee alle follower più attente, ma senza riuscirci appieno. Così, alla fine, insieme al fidanzato ha confermato i rumor. L'annuncio è arrivato lo scorso 19 luglio.